... Base di lancio con Ideal North Rock che si porta subito a condurre, è veloce anche Naxos così come Oman, seconda posizione per Nemite OP all'esterno c'è Naxos, poi... Numero 2, Nemite OP, dopo 150 metri di gara, lascia così Naxos libero di sistemarsi in seconda posizione avanti a Masolin Jet, poi Okayama RR, via via gli altri, 14-5 per i 200, all'esterno la progressione di Olimpica Ors, Olimpica Ors progredisce trascinandosi Oman, 400 intanto che si sono andati in 30 e 1, Naxos si mantiene a un paio di lunghezze in seconda posizione alle spalle di Ideal North Rock che conduce a completamento della seconda piegata e dei 600, Ideal North Rock, Naxos, Masolin Jet, Poi all'esterno c'è Olimpica Ors che si impegna trascinandosi Oman e quindi Monday B, intanto gli 800 in 1 minuto e 7 decimi per Ideal North Rock che sta facendo corso per il proprio conto, intanto Naxos è stato superato, l'Olimpica Ors che si sistema direttamente in scia ora al battistrada Ideal North Rock dopo un chilometro, anche Oman sfila, intanto 500 al palo con Ideal North Rock in vantaggio su Olimpica Ors, Oman cerca di avanzare anche Masolin Jet insieme a Okayama RR, Cavalli a 300 dalla conclusione con Ideal North Rock che continua a condurre su Olimpica Ors e Oman, poi Masolin Jet prova a spostare Okayama RR, siamo al completamento della piegata, retta d'arrivo in vantaggio Ideal North Rock nei confronti di Olimpica Ors che prova al suo esterno, Olimpica Ors si impegna ora a lato di Ideal North Rock che però ha buon vantaggio e sfugge ancora nettamente sul traguardo, il secondo posto per Olimpica Ors al terzo, finisce forse ancora Oman su Okayama RR, anche qui c'è bisogno di ricorrere alla fotografia per il terzo posto, 1.14.5 per il vincitore Ideal North Rock con Roberto Andreghetti, il training è quello di Andrea Sarzetto, Raddoppio quindi per Roberto Andreghetti in Senata, successo in percorso di testa del favorito Ideal North Rock 1.46 la quota al totalizzatore.